Oggi avere una bella voce in radio non è più la caratteristica principale per fare DJ Cioè guarda noi che voci abbiamo E tu c'hai poi la remoscia Ti sto dicendo che noi non abbiamo delle belle voci immagini A me non piace la mia voce No certo A me piace No assolutamente no Facciamo così Giorgio Allora Dai avanti tu fino a sera Ciao Cari amici di 105 Andiamo con il prossimo disco Che è Neo 50 Cent Baby by Me Grazie a tutti 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 Grazie a tutti